Comincia martedì 27 agosto la preparazione del Lucera Calcio in vista del campionato di prima categoria 2019-2020 che avrà inizio il prossimo 21 settembre. I bianco celesti agli ordini di mister Alfredo Bertozzi si dicono pronti a cominciare questa fase di preparazione alla prossima stagione che sperano possa regalare le soddisfazioni tanto attese. Resta il problema stadio. Dopo il primo no della federazione alla deroga per l'uso del campo sportivo comunale, la società presieduta da Enzo Audiello ha contattato i vertici dell'ente calcistico pugliese perché si possa trovare un accordo per l'ottenimento della deroga. L'assessore comunale allo sport Vincenzo Checchia intanto assicura il suo impegno a favore del Lucera Calcio e dello stadio comunale per il quale saranno richiesti finanziamenti per la sistemazione del manto erboso e di tutta la struttura.